Alla fine vince la democrazia, la conferma della vittoria di Biden conclude una delle pagine più tristi della storia recente degli Stati Uniti. Non ci sono parole per condannare quello che è accaduto ieri a Washington, ora guardiamo con fiducia al nostro interlocutore principale nel mondo, alla patria della democrazia, alla patria della libertà. I rapporti transatlantici sono fondamentali per l'Italia e per l'Europa.